Vogliamo la tua misericordia e ti chiediamo per intercessione di Maria, la Santa Vergine Immacolata dell'Escolio, rivolgere il tuo sguardo d'amore su questi fratelli e sorelli. Spendere il tuo braccio santo e benedire questi tuoi figlioli. Domeni, fotografi e le intenzioni di preghiera poste ai piedi della scuola. Conceli loro aiuto e protezione per tutti i loro bisogni, spirituali e materiali. Abbondanza di vita e salute, spirituali e fisici. Liberali da ogni mare, da ogni periodo e da ogni potere del diamo. E guidami sempre sul cammino retto della vita, nella luce del tuo santo Spirito. Tutto questo te lo chiediamo, oh Dio, nel nome unico e santo del tuo figliolo Gesù Cristo. Grazie. 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 Grazie.